Papà, senti questa! C'era una volta un uomo che stava per affongare nel mare. Arriva una barca e gli dice, ti serve aiuto? E lui dice, no grazie, Dio mi salverà. Poi arriva un'altra barca e gli dice, ti serve aiuto? E lui dice, no grazie, Dio mi salverà. Dopo lui affonga e va in paradiso. Allora dice, Dio, perché non mi hai salvato? E Dio dice, ti ho mandato due barche, stupido!